Come la mitologica araba fenice, città di Castello Pallavolo risorge e conquista la promozione in serie C, massima serie regionale maschile. Un risultato straordinario quando la formazione bianco-rossa ha iniziato la stagione lo scorso agosto. La nuova dirigenza di Vernate si è trovata di fatti di fronte all'uscita di tutti i giocatori attratti da proposta vincenti di altre focetà, ritrovandosi in palestra con pochi atleti a disposizione del nuovo allenatore Enzo Sideri. Invece, pian piano la palestra è tornata a riempirsi di giovani giovanissimi e l'intenso lavoro settimanale è stato propedeutico per migliorare i fondamentali dei ragazzi ed essere all'altezza del campionato e della storia pallavolistica della città, nonché per far crescere la consapevolezza del gruppo. Obiettivo era quello di divertirsi e migliorare le proprie qualità personali per diventare squadra. Gara 2 di finale ad Orvieto è stata l'apoteosi perfetta di un'annata indimenticabile. Dopo la vittoria in gara 1 dei tifernati, Orvieto doveva di fatti assolutamente vincere per portare la serie in parità e giocarsi tutta a città di Castello nell'ipotetica gara 3. Dopo aver conquistato agevolmente i primi due set, i ragazzi di Allo Blu di Coach Trevellin hanno creduto di avere la partita in pugno. Ma qui partiva la pazzesca remuntata bianco-rossa con la vittoria per 26-28 nel terzo set e poi per 19-25 nel quarto, riportando la situazione sul 2-2. Questo per arrivare al tie-break in un contesto incandescente in cui sono i tifernati a dominare per 9-15, punteggio che decretava la promozione di città di Castello pallavolo in serie C, dando il via alla festa bianco-rossa.